Una discarica a due passi dall'aeroporto internazionale di Napoli, a tre dallo svincolo della Napoli-Roma, sito accanto al cimitero di Poggioreale in via Blerriù. Sono queste le condizioni igienico-sanitarie, manco a dirlo inesistenti, presenti nella zona. Topi, cani randaggi e scoli abusivi di liquami, le situazioni di emergenza che spiccono ad una semplice occhiata dell'aria interessata dall'accampamento. Quello che colpisce poi è anche l'odore acre di spazzatura e copertoni date alle fiamme, che si può annusare in tutto il quartiere. Tutta la zona fu bonificata anni fa da un intervento del Comune di Napoli. Oggi è un'immensa pattumiera a cielo aperto. Paradossale vedere cumuli di rifiuti all'interno del campo, mentre all'esterno quattro cassonetti della SIA tristemente restano vuoti. La discarica, anzi per meglio dire le discariche, sia di rifiuti che di pneumatici che di ingombranti, stanno creando da giorni numerosi disagi alla circolazione aerea dell'aeroporto internazionale di Napoli. Il volo dei gabbiani, infatti, in un'area che dovrebbe essere inibita agli uccelli, mette a serio rischio i veivoli da e per Capodichino. Secondo un comunicato del Comune, sarebbero già numerosi i casi di impatto tra gli aerei e i volatili. E questa mattina una troupe del noto quotidiano online napolivillage.com è stata aggredita a colpi di bottigliate da alcuni rom presenti all'interno dell'accampamento. Una situazione gravissima su cui il Comune di Napoli non può più chiudere gli occhi.